L'Italia, uscita dal boom economico, doveva smaltire gli effetti della grande trasformazione che improvvisamente ne aveva cambiato la struttura economica e gli assetti sociali. Il sistema dei partiti legittimati dalla Costituzione si consolidò e per un trentennio gestì le sorti del nostro paese. Negli anni successivi all'Unità e per buona parte dell'Ottocento, la solidarietà è il concetto attorno al quale si organizzano associazioni che lentamente si trasformano da sette a partiti, da società di mutuo soccorso a leghe di resistenza e poi a sindacati. Il prepotente sviluppo industriale di quegli anni e il conseguente innalzamento del livello di vita degli italiani è uno dei principali fattori di integrazione nazionale, raggiunta attraverso il dispiegarsi del miracolo economico. Allungare un braccio, velocemente ritirarlo, un altro pezzo, agganciare, un altro pezzo, agganciare, un altro pezzo, agganciare. Avete mai incontrato gli operai quando entravano in fabbrica? Una fiumana. Quelli erano gli operai, quella era la classe operata. Dietro quel cancello il mondo si chiude. Suma tanti, siamo tanti, tutti con la stessa divisa. Prendere un pezzo dal carrello, tre secondi. Metcerlo nella foratrice, tre secondi. Premere il pedale, un secondo. La macchina fora, cinque secondi. Togliere il pezzo, tre secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.